In questi giorni le abitudini degli italiani stanno cambiando. Non si esce più di casa, non si hanno più relazioni con altre persone se non quella all'interno delle mura della propria abitazione. Eravamo abituati ad essere rumorosi e abbiamo imparato a conoscere il silenzio. Eravamo affettuosi con tutti e abbiamo imparato a mantenere le distanze. Eravamo da aperitivo tutte le sere in piazza e adesso gli aperitivi li facciamo digitali, dal divano. Questa situazione ci sta cambiando fortemente. Ci sta mostrando una parte di noi che non conoscevamo. Forse ci mette paura, forse ci mette gioia, forse cerchiamo di evitare di guardare in faccia le nostre emozioni. Chissà come andrà a finire. Ma alla fine nel nostro profondo lo sappiamo che tutto passerà. Che come dice l'hashtag che spopola in rete, andrà tutto bene. Voglio proporvi una sfida. Prendete il vostro telefono, prendete la vostra action cam, la vostra videocamera. Create un contenuto che sia per voi emozionante, che abbia valore di queste giornate di quarantena. Qualcosa che non volete dimenticare, qualcosa da immortalare e da ricordare per sé. Un video, un timelapse, un monologo, dialoghi e aperitivi digitali, ceni prelibate, la tua città vuota mentre vai a fare la spesa, il tuo lavoro in ospedale, l'ordine pubblico, i tuoi folli balli da solo, i pianti, i selfie, i momenti di silenzio, la tua vita quotidiana. Invia questo video alla mail in descrizione, usando WinTransfer o qualsiasi altro metodo. Libera la fantasia e le emozioni. Creiamo un grande film documentario di tutto questo che sta accadendo. Sì, l'attore di questo film. Sì, l'attore di questo film. Sì, l'attore di questo film.